Partenze ed arrivi sull'asse mediano. Leonardo Capezzi lascia la serenitana con sei mesi di anticipo sulla scadenza naturale del contratto per passare al Perugia. In Umbria ritroverà Fabrizio Castori, tecnico della promozione Nade e Granata per Capezzi. Contratto fino al 2025. Un anno in più durerà il vincolo tra Saritana e Domenzio Ernigoi, centrocampista sloveno in arrivo dal Venezia. Prestito oneroso e diritto di riscatto ad esercitarsi a giugno. Questa la formula del suo trasferimento. In partenza c'è oltre a Capezzi anche Castanos, sondato d'Ascoli e Benevento. Il giovane Iervo Lino potrebbe passare alla fermana insieme al portiere De Matteis, da sistemare anche sì. In attacco invece ci sono tante situazioni aperte. Butaim, Valencia e Bonazzoli non sono ancora certi di restare in Granata e la Saritana valuta diverse opzioni per eventuali integrazioni del reparto avanzato. Si cerca una prima punta, ma si valuta anche giocatori di qualità destro, da verde a verde e chissà che il trequartista le saranno ad attacco puro. Per questo ruolo si valuta un giovane argentino, Shore, non possa trovare spazio nella rosa di Nicola che aspetta anche un terzino. Piace, a proposito, Salvaferre dello Spezia, seguito anche dal Torino.